Ho scritto un libro, lo posso pubblicizzare perché le royalty vanno a borse di studio, quindi non vanno alla Comi. E allora diciamolo. Anzi, si chiama A Lavoro Offresi, perché abbiamo veramente posti di lavoro a disposizione per i giovani, ma soldi a disposizione, e non smetterò mai di dirlo, ma non abbiamo le persone anche capaci di poter strutturare un progetto globale e anche italiano. Perché cosa avviene? Il progetto Garanzia Giovani si dà quasi un miliardo e mezzo per due anni all'Italia. L'Italia poi divide questo nelle varie regioni. Ci sono regioni come la Lombardia, che ha avuto un feedback eccezionale. Su 100 persone che si sono iscritte, 88 hanno trovato posto di lavoro, non a fare le fotocopie, posto di lavoro. In altre realtà, invece, che erano quelle più problematiche, l'hanno utilizzato per il tirocinio. E spesse volte senza neanche pagare il tirocinante. Quindi si sono intascati anche i soldi senza poi pagarlo. L'Inghilterra è stata, secondo me, la migliore che ha gestito il Fondo Garanzia Giovani. Non lo potrà più fare dal 2019. Perché se ne vanno? Perché se ne vanno, però ha detto, io investo nelle periferie disagiate, dando ai giovani la possibilità di crescere e di sapere cosa fare da grandi, senza lasciarli per strada. Ma dall'altra, secondo me, in Italia bisogna dare soldi ai giovani, perché le idee, la creatività, tutta quell'innovazione ce l'hanno in testa, ma gli mancano i fondi. E il Fondo Garanzia Giovani serviva anche per questo.